Attualmente anche quest'anno si ripete questa cena in questo meraviglioso posto che è la Nino, che si affaccia anche al Po e c'è una bellissima piscina dove verrà contornata da tutti i tavoli dei nostri graditi ospiti e quindi a questo punto chiedo veramente una adesione, perché l'anno scorso è stata veramente fantastica, l'adesione eravamo quasi 500, quindi quest'anno speriamo di ripeterci su questi numeri, perché la gente deve capire che questo servizio di Progetto Vita che daremo a tutta la comunità è molto importante.